Che accade? Che accade, Giovevi, se ne è che accade? Centrodestra è coeso al Senato, i problemi sono a sinistra, invece di cercare i parlamentari, i senatori del centrodestra dovrebbero cercare i voti nel centrosinistra, non cercare i nostri voti, non cercare i nostri voti. Tutti e tutti commenti? Assolutamente, nessuna defezione. Nonostante la disinformazione, nessuna defezione, mi dispiace per loro ma danno notizie non vere. Si è parlato di un voto ballerino, Senatore, esclude quindi questo? Qual è il voto ballerino? Non mi risultano quelli ballerini, né ballerini, né ballerine. Va bene, ciao, rivederci.